Grazie a tutti. 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 Chi lo dice sa di essere, lo dice mio figlio. Allora, manca un ingrediente che secondo me è più difficile, non perché sia difficile l'ingrediente in sé, ma ben camuffato nei sapori. Diciamo che si riproduce velocemente. Esatto. Le scargo. Un girino? Un girino? E' un po' di... Coniglio? Brava! Era il coniglio. Allora, la ricetta segreta, ripetiamo, ponetta, formaggio, coniglio, salame, funghi, salvia... Ma è una parità, ma è una parità, hanno dato due credenti a testa, per cui mi sa che nessuno ha vinto il calendario, faremo un'estrazione dopo. Allora, la ricetta segreta. Ehm... Ehm... C'è una pena qua? Ehm... Buh! o a tavola non lo so